Me lo avrete chiesto in tanti e vi vanno a presentare un diritto facile facile e veloce veloce per velocizzare il vostro sistema Windows 11. Sono sicuro che una volta provata non lo abbandonerete mai più. Non avete capito nulla, vero? Vedete come siete? Cosa vi avrò chiesto mai? Un pochino di attenzione. Uno vi dà tanto, vi dedica tanto. È così che apprezzate. Non si fa così. Va bene, vi perdono, dai. Almeno state attenti all'ultimo appuntamento del nostro sponsor. Non mi fate fare brutta figura. Tenorshare 4DDG Windows Data Recovery. Recupera i vostri file eliminati, le unità formattate, le partizioni perse e i dispositivi esterni danneggiati, oltre agli illegibili file RAW. Puoi recuperare tutti i formati di foto, video, audio, documenti Office e molto altro. Tutto questo con tre semplici passaggi. Seleziona la posizione, scansione e ottieni l'anteprima dei file persi e recupera i tuoi file. Il software è disponibile in italiano per Windows e Mac OS. Provalo utilizzando il link in descrizione. Cosa vi vado a presentare ragazzi? Un'utility, me l'avete chiesta, per poter velocizzare e alleggerire Windows 11. Ragazzi, è veramente, veramente comoda. Considerate che la tengo d'occhio già da un pochino di tempo. Solo che nelle prime release, tant'è vero che non ve l'ho presentata subito, aveva ancora bisogno di alcuni affinamenti, diciamo, per quanto buona fosse già. Ma nell'ultima release che sono andato a controllare e avendola provata, vi assicuro che è diventata veramente, veramente ottima. Come la otteniamo questa utility ragazzi? Allora, basta andare sul nostro classico Google e digitare sulla nostra ricerca proprio tutto attaccato This is Win 11, ok? Ma tanto vi lascio poi il sito in descrizione. Ci clicchiamo sopra e andiamo a finire proprio sul sito di Built Bible. Basta scorrere con lo scroll verso il basso e dove vedete qua download, latest release, download. Vedete che c'è download? Basta cliccare sul download e automaticamente vi verrà scaricato il file zip che dovremo decomprimere nella nostra directory per poter lanciare This is Win 11. Andiamolo a vedere. E poi venitemi a dire che non vi voglio bene e non vi penso, eh? Perché andiamo a parlare di debloating, cioè fare il debloat di Windows 11. Cosa vorrebbe dire? Vuol dire, soprattutto, e questa è una premessa che vi dovevo gioco forza fare, forse anche prima, ma ve la faccio adesso, tanto è comunque utile, giusto? Andiamo a levare praticamente questi famosissimi e più volte sentiti, bloatware, che sono praticamente dei software, delle apps che si vengono a installare in automatico quando noi andiamo a scaricare invece un software che ci interessa in maniera primaria. Quindi ci viene a installare, in alcuni casi possiamo proprio chiamarla mondezza, in alcuni casi invece sono delle apps, diciamo, forse anche un pelino utili, ma che noi possiamo non volere, non ne abbiamo in quel momento bisogno. Quindi il debloat fa in modo tale che vengano eliminate tutte queste, tutta questa spazzatura che in pratica non fa altro che appesantirci il sistema. Il software che andremo a guardare, quindi questa bellissima utility, ci permette di farlo in automatico, ma qualcuno di voi potrebbe voler capire meglio che cos'è questo debloat, quindi approfondire. Solo ho trovato un articolo, ragazzi, che se lo avessi trovato prima mi avrebbe veramente risparmiato un sacco di tempo perché io le funzionalità le ho dovute approfondire da solo, cercare, controllarle, testarle. Ho trovato invece qualcosa che volevo lasciarvi per avere una sorta di promemoria, ma l'ho trovato dopo ed è fatto, ragazzi, veramente molto, molto bene. Nella fattispecie mi riferisco a questo articolo di allthings.how e c'è quest'articolo che come potete vedere, appunto, sapete, basta utilizzare il traduttore per averlo in italiano, quello è logico, how to debloat Windows 11. Quindi, come fare il debloat di Windows 11? Se facciamo uno scroll, vedete che il tutto viene fatto in maniera grafica, quindi, ma vi assicuro che è spiegato molto, molto bene, ragazzi. Basta fare uno scroll e vi fa vedere tutto il debloat effettuato manualmente, non automaticamente come andremo a fare noi adesso in DC's Windows 11 che è molto comodo, ma qui potete approfondire. Ci siete, ragazzi? Vedete? Tutto a livello grafico con tanto di finestre. Ma se andiamo, guardate, qui mi sposto sullo scroll e vado leggermente sotto la metà della pagina, ok? Guardate, arriveremo a un punto dove adesso vedrete la scritta, eccola qua, ragazzi. Vedete, guardate, dice debloat Windows 11 using third party debloaters. ciò sarebbe a dire non è detto che dobbiate farlo manualmente, ma si può fare anche utilizzando software di terze parti che è quello che andremo a fare noi e nemmeno a farlo apposta, ragazzi, ecco perché vi dico tenetela d'occhio, segnatevi, tanto vi lascio il link e mettetevela a portata di mano, debloat Windows 11 with DC's Windows 11 che è esattamente il software che andremo a guardare. Tant'è vero, ecco qua la schermata che adesso guarderemo direttamente. Qui c'è una guida, guardate, fatta veramente molto bene, con tanto di immagini sia dal momento in cui lo dovete scaricare sia all'ultima opzione possibile e vi assicuro ragazzi che vi tornerà veramente, veramente molto utile e poi venitemi a dire che non vi penso, poi venitemelo a dire. Andiamoci a vedere cosa facciamo con il file compresso che abbiamo appena scaricato. So che siete bravi e sicuramente già ce l'avete pensato, però io ve lo dico comunque. ricordatevi che visto che andiamo a fare un deblot di Windows 11 sapete che andiamo a modificare parti del sistema e quindi la cosa importante, ripeto, immagino che già ce l'abbiate pensato, è il fatto di aver salvato i vostri dati. Quindi, nel caso non l'abbiate fatto, mi raccomando, un bel backup come si suol dire non fa mai male, ok? Doverosa precisazione. Quindi, ci siamo scaricati il nostro file che sarà andato a finire nella nostra directory di download e ce lo troviamo qua ragazzi, ok? Andiamoci a fare uno zoom. Voi troverete il file compresso tiw11, ok? Semplicemente lo dovremo decomprimere e ci appariranno questi due file, una directory chiamata data e il file thisiswin11, eccolo qua. Considerando, anche se non è specificato ragazzi, che, ripeto, andremo a fare delle modifiche al sistema, io vi consiglio di farlo partire in modalità amministratore, quindi, andremo a cliccare con il tasto destro e faremo, leviamo lo zoom, esegui come amministratore. Andando in esegui come amministratore dovremo dare il consueto permesso che ci chiederà e ci partirà la nostra bella schermata di thisiswin11. Andiamoci a chiudere questo e mettiamoci bella la nostra finestra. Allora, perché mi fermo un attimo solo home? Perché ho visto in altri tutorial che molti lo hanno diciamo presentato come un qualcosa di semplicemente una sorta di tour di quello che va a fare quest'app. Ma in realtà, ragazzi, non è così. Stateci molto attenti. Vedete qua su in alto, guardate, ve lo faccio vedere, Hi Windows 11, lo vedete ragazzi? Praticamente ogni pagina che noi andremo a cambiare, vedete qua in basso sulle frecce che in questo momento questa è color fucsia, no? Possiamo dire. cliccando sulle frecce e andando avanti nelle varie finestre, lui praticamente ci presenterà diverse funzionalità che possono essere compiute con quest'app e contestualmente ad ogni finestra vi permette delle funzionalità. Mi spiego meglio. Guardate, se io scendo qua sotto in Get Started ve lo faccio vedere meglio, vedete qua Get Started, se io vado a cliccare qua sulla freccina mi si apre praticamente una finestra, guardate, adesso ve la faccio vedere, dove sono contenute tutte le finestre che adesso andremo a vedere nella schermata home e io posso direttamente eventualmente selezionarle ma nel caso in cui io non voglio utilizzare questa ma voglio andarla a vedere una per una semplicemente vado a fare uno scroll con le freccine qua in basso a destra quindi guardate qua sopra ragazzi dove c'è iWindows 11 se vedete io passo alla finestra successiva vedete che mi da New Start Menu appaiono ogni volta contestualmente ecco quello che vi stavo dicendo questi due pulsanti quello in fucsia è Customize This Page e quello in grigio è Configure This Page ok? il Customize This Page ogni volta che fa se ci clicchiamo vi riporta sulla funzione specifica This Is This Win 11 per poter fare quella particolare operazione quindi in quel caso per esempio modificare il Start Menu quindi qua adesso ci arriviamo vi fa vedere tutte le opzioni possibili se clicchiamo su Home e torniamo ancora qua e andiamo a cliccare invece su Configure This Page ok? ci riporta ci va a aprire praticamente le impostazioni direttamente di Windows 11 dove poter agire invece manualmente quindi è una cosa ragazzi veramente molto comoda ripeto l'hanno fatta passare un po' così in sordina e invece è molto comoda tant'è vero che guardate controllate sempre qua sopra New Start Menu guardate ragazzi se io continuo a cliccare Modern File Explorer New Microsoft Store Redesign Setting Faster Windows Update Snap Layout e via dicendo Widget quindi ogni volta avrò delle opzioni se a me interessa di cambiare quella particolare situazione quindi pensate quanto è comodo non è così da trascurare velocemente il pulsante Home è fatto molto molto bene se qui andiamo a cliccare sulla classica casettina di Home semplicemente andremo a finire sulla prima pagina che è quella che vi ho fatto vedere all'inizio e fino a qua è ancora molto semplice anche dopo ragazzi andiamoci a vedere invece la seconda opzione con la seconda opzione entriamo nel vivo dell'app e partiamo proprio dall'opzione System e già il nome vi dice tutto allora ragazzi considerate quando entrate qua su System vi apparirà questa singola opzione qua che vi dice già Windows 11 Build 22000.318 che in questo caso è l'ultimo aggiornamento appunto e quindi già ve lo segnala e capite la comodità quindi da qui potete benissimo capire qual è l'ultimo aggiornamento che avete fatto e ve lo segnala quindi andando a premere qua sul più ragazzi vi appariranno vi levo lo zoom una serie di opzioni vedete io sto facendo lo scroll fino ad arrivare alla fine praticamente una serie di opzioni che sono selezionabili o deselezionabili ma vi dico subito che sono in formato generale per poter avere le opzioni relative alla vostra macchina al vostro pc voi dovrete scendere qua in basso ve lo faccio vedere bene e cliccare su check lo vedete ragazzi cliccando su check io vado a cliccare partirà guardate qua in alto vedete la barra è diventata totalmente verde il che This is Win 11 mi è andato a fare un controllo delle possibili apps disinstallabili o modificabili nel mio specifico computer quindi non vi scordate di fare il check mi raccomando andiamocelo a vedere da vicino allora guardate ragazzi innanzitutto la prima opzione è create restore point quindi creare un punto di ripristino questa è una cosa molto molto comoda che sapete non viene fatta normalmente in automatico quindi questa assolutamente vi consiglio di tenerla selezionata passiamo alla parte che riguarda tutta la personalizzazione qua molte opzioni i ragazzi sono automaticamente intuibili considerate che se in alcuni casi vediamo dove ecco per esempio in alcuni casi come questo vedete se io mi vado a posizionare sopra la scritta mi appare una finestrella bianca che velocemente mi dà un'idea di che cosa va a fare questa opzione vi dico sempre nel dubbio disabilità cioè levate il flag perché per esempio qua vedete andiamo a disinstallare i widget ma non fossimo sicuri di quello che andiamo a fare andiamoci a informare fate il classico copia e incolla o utilizzate la guida che vi ho messo a disposizione poi ditemi che non vi penso in modo di avere una certezza maggiore di quello che andate a fare perché capite bene che non vi posso spiegare opzione per opzione perché sennò qui facciamo capodanno insieme la cosa mi farebbe piacere non so a voi però effettivamente ci metteremo un tantinello di tempo però considerate che molte sono intuibili per esempio use apps dark theme non fa altro che sia nel caso delle apps sia nell'opzione sotto nel caso di windows abilitare il tema scuro il tema nero che so che molti di voi preferiscono lasciandole appunto come in questo caso abilitate voi andrete andando a fare il fix adesso ve lo faccio vedere andrete a cambiare il vostro windows 11 nel tema nero e anche nelle vostre apps all'interno di windows 11 poi per esempio disabilita o addirittura disinstalla i widget non utilizzate i widget queste sono due opzioni da lasciare automaticamente installate eh fleggate scusatemi small taskbar o all'in taskbar to left praticamente cosa fa va a riportare la taskbar cioè quella che abbiamo in fondo come nello vecchio windows 10 cioè ve la porta tutta a sinistra e addirittura qua vi rende la taskbar la taskbar più piccolina e anche le iconi all'interno della taskbar ve le fa più piccole per avere una migliore magari utilità visiva del vostro piano di lavoro quindi è comodo anche questo e via dicendo ragazzi quindi qui ci sono delle opzioni che vi consiglio di andare a guardare e fleggare o defleggare di conseguenza utilizzate la guida che vi ho messo a disposizione in modo tale che qualche approfondimento lì lo trovate senza che vi faccio perdere troppo tempo qua sul video poi vedete qui per esempio sulla parte system remove fax printer per esempio a che ma meno che il vostro computer non sia all'interno di un ufficio io questo invece metterei un flag perché utilizzare la vecchia funzionalità fax printer per esempio in alcuni casi può non servire levandola quindi rimuovendola sicuramente mi si va ad alleggerire il sistema quindi io la lascierei fleggato poi abilitare il sottosistema per linux se non utilizzate linux che lo tenete a fare però ripeto ragazzi queste sono cose che purtroppo bisogna andare a cercare direttamente su internet per avere una sicurezza perché se mi mettessi a specificare ogni singola funzione nella sua particolarità qua veramente non finiamo più per esempio nel caso del game che può interessare molto ai ragazzi il disabilitare il game dvr per esempio il dvr è una funzione che serve per abilitare la registrazione nel momento in cui voi state giocando in streaming ma sapete bene che questa è una cosa che appesantisce notevolmente nel caso in cui voi non utilizzate lo streaming e quindi per esempio per giocare più fluidamente basta disabilitare questa funzione stesso discorso per power throttling che serve praticamente per gestire soprattutto nel caso dei portatili o dei tablet o per esempio per i processori dopo la sesta generazione viene abilitata in automatico per esempio questa qui che cosa va a fare? va a gestire il consumo la batteria e quindi automaticamente gestendo la batteria va a abbassare le funzionalità del sistema in questo caso se voi lo utilizzate su un computer desktop automaticamente conviene disabilitarlo quello è fuori discussione per giocare meglio per esempio aggiustare gli effetti visuali per le migliori performance anche questo ci sono effetti visuali nei giochi o per esempio in alcuni casi che non sono indispensabili magari li utilizzate per un vostro piacere e volete preferire appunto le performance quindi a questo punto lasciatelo abilitato in modo che lui vada ad abilitare secondo le vostre possibilità della vostra macchina questi effetti visivi e il tutto si velocizza molto capite bene ragazzi che queste sono funzioni veramente comode comode certo bisogna un attimino andarle ad approfondire non vi nascondo credo di aver capito che molte di queste funzioni più in là verranno diciamo gestite con una migliore spiegazione adesso non mi voglio allargare perché non so non sono sicuro di aver capito bene ma presumo che diventerà anche più facile l'utilizzo di disease win 11 questo è solo un'anteprima quindi mi raccomando tenetelo d'occhio guardate qui ragazzi qui arriviamo a privacy ok questo va a disabilitare ve lo dice subito quindi per esempio va a disabilitare la connessione per i user per quanto riguarda la telemetria ma perché si devono fare gli affari nostri quindi questo converrebbe a tenerlo fregato perché lo va a disabilitare la compatibilità per la telemetria quello che viene inviato come feedback quindi per esempio alcuni feedback che vengono inviati a Microsoft quindi tutto questo che riguarda appunto la privacy ragazzi questo è molto comodo perché sono comunque dei processi che rimangono in esecuzione e che vanno a rallentare la macchina non solo ma sono processi che poi vanno all'edere detto in maniera educata la nostra privacy questi credo sia il caso verificateli sempre ma sarebbe il caso appunto di disabilitarli perché non solo la macchina va meglio ma si fanno meno anche gli affari nostri detta come si suol dire papale papale fate molta attenzione ragazzi vedete che qui c'è apps permission disable quindi anche questo tutte queste funzioni se le andate a fleggare quindi a mettere il famoso flag voi le andrete a disabilitare come potete vedere voi le troverete in questo modo quindi tutte abilitate io come vedete le vado completamente a disabilitare vi spiego perché vedete che per esempio qui c'è app access access to camera in questo caso io sto registrando se avessi levato l'accesso quindi all'app che gestisce la mia camera io in questo momento non potrei gestire la mia camera quindi avrei un problema dovrei andare a agire manualmente nel caso in cui non sapessi come fare starei veramente in mezzo a un mare di problemi per dirla molto educatamente ci siamo ragazzi quindi leviamo lo zoom tutto quello che riguarda appunto apps permission disable vedete sono diversi io nel caso a meno che non siate veramente esperti io lascerei tutto defleggato cioè lascerei tutti i permessi quindi non disabiliterei nessun permesso ok ragazzi una volta che avete scelto e verificato tutte le opzioni che volete o non volete abilitare semplicemente andate qui in basso vedete e c'è fix issue lo vedete cliccando su questa opzione tutte queste opzioni che avrete selezionato che vengono appunto elencate qui a destra lo vedete qua a destra in grigio verranno automaticamente attivate quindi verranno fatti tutti i cambiamenti che avete deciso questo completamente in automatico andiamoci a vedere la terza opzione guardate che fa bene allora prima di passare alla prossima opzione ragazzi vi voglio far vedere quello che vi stavo dicendo prima che invece è molto 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 importante guardate qua su in alto ragazzi vedete open twix lo vedete ve lo faccio vedere meglio ragazzi guardate vedete che questo bottone fucsia se io ci vado sopra mi si apre la finestrella open twix e poi ci sono questi tre pallini che troverete ecco perché ve lo sto facendo vedere anche in alcune finestre successive ok per quanto riguarda questo pulsante fucsia guardate ragazzi è la cosa molto importante perché noi magari abbiamo fatto qui in basso fix issue siamo andati a modificare le scelte che appunto abbiamo fatto poc'anzi giusto ma possiamo esserci sbagliati può essere successo qualcosa ed è qui l'intelligenza di questo di questo software noi possiamo cliccare su questo pulsante e automaticamente vedete ci apparirà questa finestra che ci dirà vuoi veramente ritornare ai settaggi originali di default di windows 11 in questo caso noi potremmo cliccare su sì e ripristinare la situazione originale capite bene il vantaggio enorme di questo pulsante in questo caso metterò no perché nel momento non ho fatto nessun fix cioè non ho modificato nulla ma eventualmente ci sia qualcosa che non vi ha convinto semplicemente cliccando questo pulsante voi ripristinerete la situazione prima dei cambiamenti comodo ragazzi questa è una cosa molto intelligente ma è molto importante anche il pulsante con i tre bottoni vedete ragazzi con i tre pallini se io lo vado a cliccare mi daranno a secondo della finestra a secondo del contesto queste scelte nel caso in cui per esempio noi avessimo fatto delle scelte dopo aver tanto faticato per capire cosa dovevamo selezionare o meno per esempio non sarebbe molto comodo la volta successiva non dover andare a riguardare opzione per opzione che magari ce la siamo pure dimenticata giusto? quindi andremmo a fare export profile nel momento in cui andiamo a fare export profile lui ci aprirà come potete vedere la directory data che è quella appunto che riguarda disease win11 e ci andrà a salvare lo vedete un file chiamato windows 11 profile una volta che questo noi lo avremo creato quindi avremo esportato il profilo delle selezioni che abbiamo appena fatto basterà quando servirà ricliccare sui bottoni e fare import profile e ci andremo a rivedere qua a sinistra tutte le selezioni che noi abbiamo scelto non è cosa da poco comodo eh ragazzi ma questo ve l'ho fatto vedere perché se passiamo alla terza opzione e andiamo su apps quindi sto cliccando su apps ragazzi ci passiamo qui alla schermata successiva allora qui ragazzi vi guardo in faccia perché vi voglio dire una cosa importante vi giuro sono diventato matto ma veramente matto e qui mi serve la vostra mano ragazzi mi serve il vostro supporto perché magari qualcuno ha più tempo di me e forse ci potrà riuscire mi raccomando ragazzi perché farebbe comodo a tutti perché ripeto sicuramente quest'app verrà poi trasformata in italiano ma per il momento essendo in inglese essendoci in situazioni come quella che vi andrò a far vedere piuttosto diciamo complicatine avere un supporto da parte di tutta la nostra grandissima e andiamo community farebbe veramente molto molto piacere cosa voglio dirvi sono diventato matto per trovare un qualcosa un documento un sito che vi potesse suggerire quali di queste apps scaricare in totale tranquillità quindi darvi un'indicazione adesso capirete perché ma non l'ho trovato quindi cose molto vaghe molto incerte che secondo me più che semplificarvi vi complicavano la vita quindi eccoci qua ritorniamo di qua allora nel momento in cui stiamo in apps ragazzi come vedrete guardate vi faccio uno zoom qui ci sono delle apps che per esempio nel caso di microsoft bing news o microsoft bing water riguardano sicuramente le news e il tempo e noi sappiamo che volendo ce ne possiamo altamente non importare sempre per rimanere subeducato e possiamo disinstallarli ma ci sono app come nel caso per esempio qua sotto di wexaml 2.4 xlamm 2.7 xlamm cbs vp9 video extension capite bene ragazzi che queste sono app che difficilmente posso darvi un consiglio se disinstallarle o meno perché sono poi dipendenti dalla macchina che state utilizzando quindi sono apps che in alcuni casi possono interferire con altre situazioni quindi dirvi quali o non disinstallare capite bene che non posso prendere una responsabilità del genere quindi se qualcuno di voi dovesse trovare una guida un qualcosa che semplificasse a tutti quali apps in totale tranquillità possono essere disinstallate fareste veramente un gran favore a tutti diciamo che nel caso in cui vogliamo disinstallare le app su quali siamo assolutamente certi come per esempio nel caso detto prima di bing news per esempio l'operatività qui è molto semplice basta andare a selezionare per esempio l'app che vogliamo disinstallare e fare addition selected lo vedete ragazzi cliccando me lo porta qui sulla sinistra sulla destra scusatemi nel recycle bin quindi nel cestino potrei andare qua in fondo come vedete dove c'è scritto empty recycle bin quindi mi andrebbe a cancellare quindi a eliminare a disinstallare tutte le app che ho messo qua sulla destra ok ragazzi se voglio ripristinarla semplicemente ci clicco sopra e faccio restore selected e me la riporta sulla sinistra additional è inutile ve lo faccio vedere ma tanto per comodità mi porta tutte le app a destra quindi le andrà a cancellare tutte restore all me le va a riportare tutte a sinistra ok ma perché vi ho fatto vedere prima i tre puntini che sono fondamentali perché specialmente nel caso qui delle app che è una cosa un po' più diciamo sul quale bisogna fare molta più attenzione se andiamo a cliccare qua sui tre puntini li vedete vedete che qui la prima riga mi dice import bloatware list la vedete ragazzi ecco se cliccate qua ragazzi basta cliccarci e vi apre la finestra appunto che riguarda disease win11 dove troverete guardate ve lo faccio vedere questo questo qua vedete apps 11 lo vedete se cliccate due volte su apps 11 voi andate a caricare una lista di apps che la community del programma di disease win11 ha creato perché sono apps che sicuramente loro consigliano andrebbero assolutamente disinstallate guardate se io faccio un doppio clic guardate vedete che probabilmente lui mi dice che ha inserito queste apps appunto nel recycled bin e non sono poche ragazzi guardate ha già provveduto per esempio ci ha messo guardate andiamo con lo zoom lo vedete meglio guardate vedete clipchamp Adobe System Incorporated per quanto riguarda Lightroom Photoshop che sapete sono quelli probabilmente per testarli che sono app che probabilmente non ci servono a nulla Instagram Beta Candy Crush se non utilizzate il gioco vi conviene guardarvele una per una perché effettivamente ho visto che questa lista suggerita dei bloatware sono delle app che effettivamente potrebbero essere disinstallate in questo caso nel caso vi facesse comodo di installarle semplicemente vi spostate qui in basso e fate empty recycle bin e vi va a disinstallare tutte queste apps rendendo molto ma molto più leggero il sistema questo lo capite da voi qui ripeto ragazzi ci vuole il vostro supporto magari se qualcuno comincia a suggerire nei commenti quali sono le apps assolutamente sicure che assolutamente non danno fastidio a nessuno fareste veramente un gran favore a tutti quindi questo ve lo chiedo e vi ringrazio di cuore come al solito nei tre puntini sopra potremo fare logicamente esportare come nel caso precedente la nostra lista di apps da cancellare direttamente salvandola come vi ho fatto vedere prima possiamo fare un refresh e quindi riportare la situazione originale come avete visto in questo momento e anche in questo caso o disinstallare tutte le apps o eventualmente far apparire il pop up che ci fa vedere la situazione originaria ok ragazzi questa è una cosa molto importante mi raccomando il vostro supporto andiamoci a vedere la prossima opzione come al solito do qualcosa per scontato dice quello per precisione logicamente qui nel caso delle apps ragazzi vi ho fatto vedere che potete selezionare per esempio microsoft bing news e poi fare addition selected giusto ragazzi adesso riportiamola di qua ma se dovessi selezionare più apps perché sono sicuro che posso andarle a cancellare non è che devo fare su ognuno addition selected basta tenere premuto il tasto control per esempio quindi seleziono la prima tengo premuto il tasto control seleziono anche la seconda o seleziono anche la terza o seleziono anche la quarta allora detto questo passiamo alle ultime due parti che sono molto più semplici e molto più comode la prima riguarda i package eccola qua che sarebbe la quarta come opzione qui ragazzi troverete guardate ve lo faccio vedere da vicino una cosa che veramente è comoda esiste un altro programma chiamato minite o nine it adesso secondo com'è la pronuncia giusta che praticamente non fa altro che preinstallarvi una serie di programmi che sicuramente sono molto utili e lo fa anche di 6 sui 11 ma guardate che carino ragazzi ve li hanno divisi questo nelle precedenti versioni non era così adesso ve li hanno divisi per categoria per esempio vedete windows package manager c'è la parte essenzia la parte per le migliori app per windows 11 quello che riguarda i browser se noi andiamo a cliccare sui più vedete ragazzi per esempio ci dice che nel package essential lui ci andrà a installare 7zip bletchbrit discord il fastkillian mozilla notepad e via dicendo noi possiamo pure selezionare solo alcune parti di questi package perché magari non ci interessa l'intero package ma ci interessa di installare automaticamente solo certi software di alcuni package ok quindi fate finta che qui mi interessa 7zip e io lo vado a selezionare facciamo un leggero scroll e andiamo per esempio ad aprire best app for windows 11 vedete qua per esempio ci può essere translucent che è addirittura un tutorial che vi ho fatto che serve per rendere trasparente la barra e magari io posso volerla installare leviamo lo zoom se no qui divento un macello andiamo in browser per esempio in browser mi può interessare di installare per esempio direttamente google chrome per esempio e opera che a me interessa e via dicendo il discorso per tutti gli altri package noi possiamo andarcene a guardare uno per uno per esempio nella comunicazione possiamo utilizzare microsoft skype che ci può servire o per esempio nell'intrattenimento cosa molto importante ci può interessare per esempio vlc che riguarda appunto la possibilità di vedere i video quindi può far molto comodo e via dicendo per tutte le altre app che ci possiamo andare a guardare per i package e installare per esempio nel caso di foto c'è guardate c'è gimp che è molto comodo io lo vado a selezionare quindi guardate ragazzi una volta che noi abbiamo fatto le selezioni vedete che ci interessano non dobbiamo fare altro che andare qui in create package ve lo faccio vedere bene quindi ci andrà a creare vedete io ho cliccato ci andrà a creare il package e ce lo dice qua ce lo spiega ce lo delimita direttamente nella finestrella nel momento in cui noi faremo ok automaticamente sappiamo che questi package questo nostro package è stato creato qua sulla destra nel momento in cui faremo qua run installer vedete questo bottone qua semplicemente questi package verranno automaticamente installarli senza doverli andare a cercare uno per uno ogni volta che per esempio noi riformattiamo la nostra macchina e lo sapete perché vi ho fatto il tutorial dell'installazione pulita sapete che avete bisogno di certi package che dovete andare su internet uno per uno a cercarli e scaricarli qua lo potete fare con un singolo passaggio e venitemi a dire che non è comoda questa cosa passiamo all'ultima opzione che è automate ve la faccio vedere bene che è praticamente questa sotto package ok quindi clicchiamo qui su automate e qui praticamente ragazzi questa è una sorta di riassunto automatizzato di quello che abbiamo fatto fino ad ora e non è cosa da poco ragazzi è una cosa molto intelligente guardate andate a vedere andiamo a vedere che cosa fa guardate per esempio install apps guardate ragazzi quindi qui se guardiamo per esempio install apps e lo selezioniamo considerate che a destra logicamente lui vi darà un'idea di quelle che poi sono anche qua sotto in basso adesso levando lo scrollo lo vediamo lui vi da qua sotto una sorta di descrizione di quello che va a fare questo processo di automazione ok ragazzi quindi ve lo dico subito nel caso di install apps ritorniamo qua sopra praticamente lui va a fare una sorta di refresh delle app che abbiamo già installato al nostro interno e va a provvedere all'eventuale aggiornamento cosa che può essere molto comoda perché alcune di queste apps per esempio il fatto di taglia copia incolla seleziona una parte dello schermo io lo uso spessissimo quindi per esempio questo il fatto che me l'aggiorni in automatico può eventualmente farmi comodo reinstall all built in apps abbiamo sbagliato prima abbiamo fatto degli errori sulle app che abbiamo cancellato qui viene in soccorso questa fantastica opzione che semplicemente ci va a reinstallare tutte le apps originarie quindi se nella sezione quella di opzione delle apps noi abbiamo fatto qualche errore eventualmente grossolano e ce ne siamo accorti cliccando qui mettendo il flag su apps vedete reinstall all built in apps noi andiamo a ripristinare tutte le nostre app remove default apps remove default apps sia provisioned sia recommended riguarda soltanto nel caso in cui voi create un nuovo account o andiate a fare un aggiornamento ci sono app che solitamente vengono reinstallate o installate in automatico sono app che magari a noi non interessano assolutamente mettendo questi due flag lui in automatico va a rimuovere da ogni nuova creazione account o da ogni nuovo aggiornamento l'installazione di queste app che possono servirci ok remove one drive lo dice la parola stessa update store apps anche lo dice la parola stessa ultimate performance mode allora ragazzi questo è un particolare vedete ve lo dice qua sulla destra è un particolare adesso non faccio non mi sposto perché altrimenti va a scatti e poi dopo per ripristinare la schermata ci vuole troppo ma è una cosa che dovete andare a leggere perché si va a migliorare le performance però diciamo che non è proprio ancora stabilissimo effettivamente io l'ho provato perché sto provando tutto su una macchina virtuale devo dire che si nota un certo miglioramento ma quello che vi consiglio in assoluto è ragazzi questo software di this one in 11 fino a che non ci avete preso un po' la mano avete fatto determinate prove o avete un'altra macchina su quale provarlo e allora lì state come si suol dire paraponsi oppure come ho fatto io mettete abilitate una macchina virtuale tanto vi ho fatto tutti i tutorial al riguardo eventualmente provatelo su una macchina virtuale perché è un software molto semplice ma di primo impatto può farvi creare qualche diciamo errore o difficoltà quindi vi consiglio prima di provarlo provate anche questo performance mode perché è una cosa che alla fine potrebbe far molto comoda a parecchie persone bypass edge come default handler per esempio nel caso di widget o nel caso delle news automaticamente c'è un richiamo diretto ad edge quindi se noi abbiamo un browser predefinito come google in alcuni casi invece viene gioco forza come in questo caso qui gioco forza aperto edge flaggando questa opzione quindi mettendo un flag qua voi semplicemente andate a dire a queste particolari situazioni di aprire comunque il browser predefinito quindi nel nostro caso per esempio google ok disabilitate i servizi ragazzi no perché disabilitate i servizi non sapendo quali servizi vengono disabilitati noi è vero pure che quando ci clicchiamo ragazzi guardate leviamo lui ci dice qua quali servizi vengono disabilitati qua sotto lo vedete guardate ve lo faccio vedere meglio per esempio ci dice che la connessione per la telemetria il fax sono alcune delle opzioni che già abbiamo visto prima in system ok se voi siete sicuri che questi servizi non vi servono basta fare uno scroll uno scroll ve li elenca praticamente tutti se voi siete sicuri che questi servizi non vi sono indispensabili allora in questo caso voi potete tranquillamente andare a mettere il flag su privacy disable services quindi senza andarli a selezionare uno per uno nella opzione system da qui automaticamente li potete disabilitare e installare rimuove la telemetria stesso discorso dei servizi riguarda sempre la parte system di prima e ve lo fa praticamente in automatico chiudendo appunto alcune delle opzioni che avevamo prima in system clean up windows non fa altro che praticamente andate a utilizzare il sistema di pulizia all'interno di windows allora ragazzi io credo che abbiate capito che questo è un programma di unitilità veramente incredibile mi raccomando mi raccomando tenetelo d'occhio perché guardate ragazzi si evolve di giorno in giorno quindi capace che mentre vi sto facendo il tutorial già è uscito un nuovo aggiornamento e lo stanno veramente migliorando ed è un utility che se ci perdete tra il tutorial che vi ho fatto e la guida che vi ho lasciato il tempo che merita ragazzi veramente diventa di un vantaggio in unità veramente fuori discussione io ho fatto diverse prove e devo dire che il sistema veramente non solo si è alleggerito ma si è veramente velocizzato ragazzi quindi certo ragazzi bisogna che ci perdete quel pochino quel pochino di tempo per poter avere quella manualità che vi consente di farlo in totale tranquillità mi raccomando la community ragazzi se avete nei commenti se avete dei suggerimenti o avete delle cose che sapete avete testato e siano sicuri che funzionano siete benedetti avete il mio completo e totale ringraziamento tanto lo sapete ve lo segnalo e avrete sicuramente ringraziamento da parte tutta di tutta la community spero di avervi detto credo che il video sarà diventato piuttosto lungo ma questa era una cosa che comunque dovevo farvi vedere in questo modo altrimenti non l'avreste presumo mai utilizzata perché molti di voi si sarebbero spaventati ripeto utilizzatela prima in totale tranquillità vedrete che non l'abbandonerete mai più ragazzi un abbraccione gigantesco a tutti e un grazie di cuore come al solito e ci vediamo al prossimo video buonasera da tutti grazie 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 grazie